Vuoi un caldo inverno? Rivolgiti all'azienda Paolo Angeletti. Troverai una vasta varietà di prodotti per riscaldare i tuoi ambienti. Stufe, camini a pellete a legna, caldaie a condensazione, ma anche impianti ibridi, pannelli solari e tutto ciò che riguarda l'energia alternativa. Seguiamo il cliente in ogni fase, sopralluogo, vendita, installazione e assistenza tecnica post vendita. E siamo specializzati sugli incentivi come conto termico 2.0, cessione del credito e super bonus 110%. Vieni a trovarci in via Fratti 157 a Pesaro.